buonasera amici buonasera amiche di tre gran minuti siamo nel post partita di juventus napoli la finale di supercoppa italiana ops 5 super cup come è stata ripartizzata quest'anno per un breve commento sulla vittoria di questa sera direi finalmente una successo un primo trofeo conquistato dalla juventus e soprattutto da andrea pirlo prima di partire però mi raccomando iscrivetevi al mio canale youtube attivate la campanellina delle notifiche per poter rimanere aggiornati su tutti i futuri contenuti che presenterò qui su questo canale che come sempre mi auspico possono essere di vostro gradimento mettete like al video se in fondo alla puntata questa sarà stata di vostro gradimento commentiamo velocemente questa vittoria che succede al disfatta di domenica sera a san siro contro l'inter ci voleva una prestazione convincente ci voleva un successo soprattutto per la juventus per andrea pirlo per scacciare i fantasmi di una stagione che già in tanti davano per fallimentare per eccessivamente transitoria è arrivata una prestazione a mio modo di vedere abbastanza convincente a tratti convincente ma soprattutto è arrivato un successo che da un calcio alle polemiche consente alla juventus di alzare il primo trofeo stagionale a pirlo di conquistare il primo trofeo da allenatore della juventus da allenatore professionista ma soprattutto consente i ragazzi di mister pirlo di poter approcciarsi da adesso in avanti con uno spirito sicuramente migliore con il morale più alto con una maggior autostima e con la consapevolezza di potersela giocare se l'approccio alle partite è di quelli giusti considerate che a questa squadra mancano ancora giocatori che sono out per covid mi riferisco nella fattispecie soprattutto a delit un difensore tra i più forti al mondo che sposta gli equilibri ma soprattutto sposta la capacità di giocare di una squadra quella della juventus che cerca sempre una difesa alta un pressing un pressing alto per la squadra corta e andare a fare il recupero palla nella tre quarti avversaria questa sera voglio fare un plauso speciale a guan quadrado che è rientrato dopo un paio di settimane escluso dalla positività al covid il doppio tampone ha consentito al colombiano di essere disponibile colombiano che si era allenato da solo chiaramente nel periodo di isolamento a casa e che si è presentato questa sera disponibile e in campo offrendo una prestazione sontuosa autore dell'assist del secondo gol di alvaro morata ma soprattutto di grandi letture sia difensive sia nella fase offensiva per tutto l'arco della partita l'out di destra è stato di suo assoluto dominio coadiuvato molto bene dallo statunitense mckenny e quindi per guan quadrado va la mia palma di migliore in campo molto bene anche voi cecesni che ha un grandissimo limite nelle uscite fuori dalla porta ma tra i pali resta comunque tra i migliori portieri al mondo e questa sera anche per istinto anche per fortuna ma ci vuole anche quella ha esibito due interventi decisivi e risolutori perché sullo 0 a 0 ha evitato il gol di lozzano che di testa da pochi passi aveva battuto a colpo sicuro e sull'1 a 0 dopo il calcio di rigore fallito da insigne il napoli aveva avuto l'occasione per rimetterla in sesto proprio a pochi minuti dalla fine miracolo di scesni capovolgimento di fronte rete di morata partita chiusa 2 a 0 per la juventus che alza la supercoppa italiana ops 5 super cap e quindi può guardare con una maggior serenità al immediato futuro domenica all'ora di pranzo all'alliance stadium sarà di scena il bologna la juventus deve ricominciare a correre per tornare quanto prima nelle vette nelle parti alte della classifica perché questa squadra ha le qualità e le possibilità di farlo un'altra nota di merito la voglio riconoscere a bentancur tanto bistrattato e tanto criticato nell'ultimo periodo per eccessive un'eccessiva quantità di prestazioni altamente sotto le sue possibilità questa sera affiancato ad arthur enesima testimonianza che questo centrocampo a mio modo di vedere non può prescindere da arthur e mckenny ha offerto una prestazione dicevo rodrigo bentancur molto 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 positiva ha recuperato una quantità industriale di palloni si è reso estremamente utile per i compagni ha cercato anche spesso la verticalizzazione è chiaro ha nella non eccessiva rapidità di manovra e soprattutto nella totale apatia alla zona gol il suo grosso limite la sua grossa il suo grosso punto debole li deve cercare di migliorare per poter poi essere considerato un grande centrocampista però questa sera a me personalmente bentancur arthur codio vatti molto bene da mckenny che sulla fase difensiva nella fascia destra per poi accentrarsi e diventare un uomo in più nella fase di possesso sono piaciuti decisamente anche se c'è da lavorare c'è sicuramente da migliorare molto arthur ad esempio un primo tempo senza grandi cose senza sbagliare nulla e una secondo un secondo tempo decisamente superiore nota un pochino negativa di questa serata credo possa essere quella di federico chiesa uscito al termine del primo tempo ma per un problema alla caviglia colpita dura contro il sassuolo da obiang e quindi giustificato anche per una condizione fisica non ottimale deve migliorare kuruseski questa sera è stato un pochino troppo fumoso però nel complesso io ritengo che questa sera si possa essere soddisfatti solitamente siete tutti bravi o in tanti sono bravi a criticare la juventus la dirigenza pirlo per le miriade di mancanze che scrivete qui sotto ai video e che io ovviamente commento e apprezzo che voi lo facciate perché comunque il confronto è sempre un motivo di crescita e di conoscenza dei pensieri diversi dal proprio però ecco io credo che andrebbe utilizzato un maggiore equilibrio la critica ci sta è giusto perché ognuno ha una veduta sua ed è giusto che la esprima però a volte vi sento e vi leggo un pochino troppo catastrofici nei confronti di una società che per nove anni ha regalato delle grandissime soddisfazioni ai propri supporti ai propri tifosi può aver commesso degli errori chi non ne commette ma credo che ancora una volta anche quest'anno la juventus possa dire la sua se non sarà scudetto comunque la juventus ha gettato le basi con un rinnovamento con una con l'inserimento di giocatori giovani per continuare a vincere con un ciclo che ci si augura possa essere immediatamente riagganciato eventualmente a quello che potrebbe non è ancora detto comunque concludersi io invece ho concluso qui mi raccomando voi lasciate i vostri commenti qui sotto vi auguro una buona notte forza juve e soprattutto concentrati tutto insieme in direzione domenica juventus e bologna un altro match da non fallire e soprattutto da vincere per poterci rilanciare ancora verso le vette alte della classifica io vi saluto vi auguro una buona notte mettete like al video a presto ciao ragazzi iscrivetevi al mio canale youtube mettete like al video seguitemi sui social che vedete qui accanto e ci vediamo al prossimo video ciao